allora ragazzi oggi vi mostrerò tutte le mie cose nel cassetto incominciamo allora questo vedete goku è di un amichetto dopo questa figurina che mia sorella mi ha regalata ho un astuccio molto bello della lazio delle figurine attaccato poi ho questo personaggio che ha regalato un amichetto mio di me l'ha regalata un amichetto di wrestling poi ho questo gioco un videogioco che mi hanno regalato cioè che me l'hanno comprato dopo questo diario della lazio molto bello e sono della lazio dopo un relaggio di topolino vedete bene dopo qui in questa scatola ho dei pop pop i botti tre pacchetti di mini ciccioli con me c'è uno e due questa è una torcia non ci faccio niente vedete poi ho questa farfallina che ha vinto mia madre alle gioste con una botte ne ha prese 4 dopo ho tre pacchetti di carte non vi mostrerò tutte se non sprechiamo tempo anzi si va questo e questo dopo questa cosa che è un fighissimo vedete si mette al collo dopo le vedete nel buchetto vedete non so se si vede molto bene poi se si gira si vede poi la magia che dopo vi farò il trucco vedete dopo metto una moneta metto una moneta qui faccio così la moneta scomparirà e il trucco sarebbe questo mettiamo qui la moneta inficchiamo questo non c'è qui dentro si vede vuoto ma lo rinficchiamo vedi che è dentro la moneta è qui spero che vi piace questa magia qui è un'altra che compro tutti in edicola questa qua non ve la posso mostrare perché è rotta qua metto una cosa chiudo faccio così e dopo ce ne scomparre la cosa il trucco è che ci stanno due cassetti solo che il mio si è rotto sta qua vedete dopo l'album dei cucciolotti che in realtà non mi piace cioè si mi piace solo che io faccio quello dei calciatori questi sono i pacchetti di figurine il mio orologio beh poi ho questo per sentire la musica da aranci da aranci poi ho le chiavi di un gioco delle mie manette dopo ho questo per disegnare faccio solo un disegno proprio da attivista brutto ma in volte inventato dopo ho questo grande pacco tutto pieno di figurine poi ce ne ho tantissime altre e il nostro video finisce qui ciao